Il Teatro dell'Italia di San Nicolò, arrivato alla ventesima edizione, è un motivo veramente di orgoglio per la città di Termo e complimenti all'Associazione Città Futura che è veramente un motore straordinario per la frazione di San Nicolò ma con questo evento devo dire per tutto il Comune di Termo e per tutta la Regione Abruzzo. Una rassegna appunto arrivata al ventesimo anno che sosteniamo, porto anche i saluti, questa mattina porto anche i saluti della Fondazione Terca e del BIM che collaborano e contribuiscono a questa manifestazione perché veramente negli anni ha dimostrato di saper attirare sul territorio della mano tantissimi appassionati di teatro dell'Italia e tantissimi visitatori. Quindi arrivati a vent'anni non potevamo continuare a sostenere e ringraziare questa associazione che non si occupa solo di teatro perché veramente durante l'anno fanno tantissime altre manifestazioni ma veramente nel teatro di Aletà di San Nicolò hanno trovato la loro manifestazione più importante e quella che raccoglie da sempre la maggior parte del pubblico. Veramente siamo orgogliosi di sostenere l'amministrazione comunale.